buonasera e benvenuti a quest'altra recensione di recensioni veloci questa sera parleremo di questo utensile da bricolage della capù bene è arrivato questo utensile da bricolage apriamo subito la custodia che arriva in dotazione per vedere come è fatto ed eccolo qui all'interno troviamo un cavetto di ricarica usb perché questo è un dispositivo come piccolo ricaricabile vedete l'ingresso qua molto piccolo per il bricolage e poi un set con 26 accessori ne abbiamo diversi tipi tutte le varie staff sia per levigare per tagliare vedete questa una parte abrasiva qua invece abbiamo quello morbido abbiamo anche la lama i diversi supporti qua sono tutte le piccole frese diciamo chiaramente stiamo parlando di un dispositivo per il bricolage vedete le varie frese classico un po stile dremel né più né meno molto simile anche in lingua italiana ma insomma non è particolarmente difficile 3.7 volts la la potenza di questo dispositivo che ha tre velocità vedete con chi indicato contro i led e poi questo tasto che permette di sganciare che per l'inserimento delle varie punte molto molto semplice ecco qua vedete quando sentite il tac adesso e quindi questo è bloccato molto molto semplice un dispositivo economico ma estremamente semplice molto pratico che vi permetterà di utilizzarlo per esempio per piccoli lavori di bricolage chiaramente perché abbiamo anche vedete delle mole molto piccole molto piccole questo tasto vi permette quando schiacciato di sbloccare la vite poter sfilare i vari componenti e poterli tranquillamente inserire ecco qua lo lasciate lo premete per chiudere di nuovo ecco qua e così è agganciato senza problema davvero molto pratico grazie a tutti grazie a tutti